Oggi doveva essere una giornata importante per la vicenda dei balneari italiani perché oggi erano previste le audizioni alla Camera dei Deputati. Dovevano essere auditi i comuni italiani attraverso l'Anci e dovevano essere audite le regioni attraverso la conferenza Stato-Regioni. E la regione non ci sarà, le audizioni non si terranno perché non hanno trovato una sala libera alla Camera dei Deputati. Questo mi sembra da solo sia già un dato sufficiente per dire qual è l'interesse del Governo. Ma la cosa importante secondo me è che le regioni, che non sono audite oggi ma saranno audite a breve io spero, arrivano a questo incontro avendo fatto un lungo lavoro preparatorio. L'assessore Scaiola che è il rappresentante del tavolo del De Magno e quindi rappresenta tutte le regioni italiane ha in questi mesi e ancora ieri incontrato i suoi colleghi delle altre regioni per trovare una posizione comune laddove si riesce ad avere la stessa idea rispetto a questo DDL. E poi sicuramente aggiungerà quella che è la preoccupazione della regione Liguria che rispetto a questo DDL è profondamente contraria. La cosa inaccettabile è che l'Anci, cioè l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, non abbia fatto la stessa cosa. L'Anci parlerà per bocca del sindaco di Rimini, Gnassi. Gnassi è il braccio armato del PD, è colui che rappresenta la posizione dell'Emilia Romagna che non è la posizione dei Comuni Italiani, è la sua posizione, è la posizione di un partito. Perché Gnassi andrà a rappresentare migliaia di Comuni Italiani costieri che non sono stati rappresentati, con cui non ha fatto nessun tipo di interlocuzione in questo periodo? Ma se arrivasse il comune di Pietrasanta al sindaco Mallegni direbbe le stesse cose, no? Se arrivasse il sindaco Canepa di Alassio, Pignocca di Loano o dei Michelis di Andorra, comunque comuni importanti dal punto di vista turistico direbbero le stesse cose, no? E allora è bene che Anci, se vuole avere ancora un ruolo, se vuole avere ancora un significato, faccia un lavoro interno. I responsabili regionali del demanio che sono eletti per quello che riguarda la regione Liguria, il comune capofila per il demanio è il comune di Loano. Almeno abbia un'interlocuzione con il sindaco di Loano, il buon sindaco di Rimini. Se no, la posizione dell'Anci sarà la sua posizione, la posizione del PD, la posizione della regione Emilia-Romagna, che non è la nostra posizione, ma non è neanche la posizione dei balneari italiani. Quindi, se vogliamo provare a dare soluzione, diamo rispetto almeno a quelli che andranno a rappresentare il territorio. Se no, l'Anci rischia di essere una scatola vuota, o peggio, lo strumento di un partito politico che dell'Anci sia impossessato.